Buongiorno ai lettori di Vercelli. Oggi ci troviamo di fronte all'ufficio postale di Asiliano Vercellese. Molti utenti, adesso siamo solo parzialmente soddisfatti del fatto che ci chiamino clienti, dandoci così l'idea che magari siamo più coccolati. Invece i disservizi delle poste, specie nei paesi dell'Interland di Vercelli, si fanno sentire non che il capoluogo viva una situazione particolarmente felice da questo punto di vista, ma ad Asiliano negli ultimi tempi c'è stato un aggravarsi della situazione. Ne parliamo col sindaco del paese, Carolina Ferraris. Buongiorno ai lettori, ringrazio per la disponibilità Guido. Stiamo vivendo un periodo di difficoltà, perché in tempo di pandemia nel 2020 gli uffici postali avevano deciso di ridurre i giorni di apertura settimana a tre. Però noi avevamo capito la situazione perché comunque c'erano delle strette necessità, però adesso bene o male tutti hanno ripreso a lavorare normalmente o quasi pressoché normalmente. Però non sono stati ripristinati gli altri due giorni di apertura e questo crea dei forti disservizi per un paese come Asiliano, perché oltre a comprendere le persone di Asiliano, gli asilianesi, ha un bacino di utenza che arrivano anche da fuori. Scusami, permettimi solo una domanda. Quando parliamo di giorni, intanto mi pare siano lunedì, mercoledì e venerdì, ma intendiamo quali orari di apertura? Perché uno giorno può pensare mattino, pomeriggio, eccetera. No, 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 mezza giornata fino alle due, un quarto alle due, quindi non è tutta la giornata. E prima c'era anche il sabato fino alla mezza. Quindi sarebbero tre i giorni mancanti. Quindi si creano delle code, dei disservizi perché non sempre i programmi funzionano. Quindi spesso si trovano le persone che si trovano a fare magari un'ora, un'ora e mezza di coda e alla fine non riuscire a risolvere quello per cui era venuto in posta. Noi non è che ci presentiamo qui a lamentarci e basta. Noi abbiamo già mandato delle richieste e delle lettere proprio chiare di quello che noi chiedevamo alla direzione delle poste, ma c'è stato risposto che non c'era l'intenzione di ripristinare i giorni mancanti, anche perché Asiliano aveva la banca. Io credo che uno non debba escludere per forza l'altro, anche perché qui chi è che avesse solo il conto in posta non ha neanche l'opportunità di avere un banco posto. Quindi noi chiederemo anche per velocizzare. Cerchiamo di... Permettimi, il banco posto prima c'era e poi è stato disattivato o non c'è mai stato? Esatto, quindi voi chiede almeno di attivare il banco posto. Di attivare il banco posto perché comunque è uno dei paesi più grandi della bassa, quindi c'è necessità e abbiamo proprio il bisogno che questi giorni siano ripristinati o in qualche modo ci venga dato un aiuto. Grazie, speriamo che i vertici dell'amministrazione delle poste vedano questo messaggio, ascoltino le parole del sindaco e soprattutto facciano qualcosa perché non dimentichiamo che ci chiamano utenti o che ci chiamano clienti. come vedete ci sono tante persone che sperano in un servizio migliore. Grazie a tutti e arrivederci su Vercelli Oggi.